Benvenuti da Naro Sensei come ben sapete se conoscete i miei video una delle cose principali in cui voglio puntare è la sicurezza e la privacy innanzitutto per qualsiasi sistema operativo uno dei sistemi più semplici e efficaci è il firewall l'utilizzo di un firewall ovvero un programma che si occupa di controllare tutte le connessioni che avvengono in entrata e in uscita e bloccare quelle che noi non vogliamo è veramente principalmente una delle cose fondamentali da fare se voi utilizzate Windows 10 o comunque sia un Windows abbastanza recente troverete il Windows Defender Firewall se utilizzate un programma di terze parti esempio nel mio caso ho Casper Sky come molti sanno a proposito se lo volete basta che mi fate un fischio e vi procuro le licenze originali tra le varie cose abbiamo anche il firewall quindi dispositivo nella rete monitor di rete e abbiamo tutte le connessioni che entrano ed escono e da qua si può bloccare ma se vogliamo un firewall veramente alla portata di tutti anche della persona più scarsa in materia di PC questo è il video giusto come si fa per utilizzare un firewall veramente semplicissimo allora prima di tutto andiamo sulla pagina che vi linkerò sotto e cerchiamo Firewall App Blocker detto anche Fab è un programmino gratuito potete usarlo come volete non serve neanche installarlo è piccolissimo qua c'è scritto come utilizzarlo comunque vi faccio vedere un breve tutorial dopo averlo scaricato Fab si presenterà o Fab normale o Fab 64 ingrandiamo le icone eccole qua quindi Fab questo va bene per tutti quanti i tipi di Windows Fab 64 solo per architettura 64 bit per vedere se avete 32-64 ho fatto un video a riguardo comunque il 99% di tutti quanti i computer recenti che hanno qualche anno montano architettura 64 bit proprio perché è più veloce e funziona doppiamente più veloce di un 32 detto questo una volta scaricato avete semplicemente questo programma che non va installato basta un doppio clic si dà conferma ed eccoci qua questo è tutto il nostro programma ci volevo tenere a dire che è neanche un mega quindi 983k non oso dire altro perché è proprio una roba vergognosa è piccolissimo plug and play quindi vi basta semplicemente copiarlo incollarlo senza installarlo senza fare niente e questa è la nostra schermata qui abbiamo le regole in uscita le principali, le classiche qui abbiamo le regole in entrata se non volete avere problemi o altro il mio consiglio è occupatevi sempre delle regole in uscita perché? perché in uscita vanno via i nostri dati in ingresso possono esserci aggiornamenti ok? comunque dopo la dovete metterci un po' di impegno e fare qualche prova però è veramente di una facilità disarmante il motivo è semplice io voglio bloccare CCleaner ipotesi ho proprio il collegamento non ho neanche l'app il programma o altro ok? semplice collegamento lo trascino dentro lo mollo a posto finito io ho finito CCleaner attivo sì azione blocca basta finito da questo momento CCleaner non manda più fuori nessuna informazione se io chiudo ho finito non serve salvare non serve fare niente ok? perché come funziona? questo programma qua non fa altro che agire su le regole che normalmente dovremmo scrivere a mano dentro il Windows Firewall ok? questo qua Windows Defender Firewall quando noi lo apriamo in questo caso troverete tutto rosso perché è gestito da Kaspersky appunto comunque se voi utilizzate il Windows Defender e quindi non programmi di terze parti per quanto riguarda il Firewall troverete tutto in verde qui potremmo consentire le app modificare le impostazioni attivare e disattivare Windows Defender e fare un sacco di robe e metterle tutte quante a mano ma visto che noi siamo pigri noi usiamo questo programma e quando noi cacciamo dentro la roba lui non fa altro che scrivere le regole per noi là dentro dentro il Windows e per quello non serve installarlo perché anche se lo cancello lo cambio di posto o altro questo non serve più a niente tutte le regole sono finite dentro il nostro Windows Firewall ok? quindi di una facilità disarmante vogliamo farlo anche in entrata in ingresso tac finito non vogliamo più la regola in ingresso cance finito in uscita vogliamo fare blocca sì vogliamo consentire consenti vogliamo attivare e disattivare possiamo fare quello che vogliamo ok? qui avete alcune impostazioni per regolarvi le schermate quindi spostare su e giù le regole bloccare consentire il file senza fare il tasto destro possiamo bloccare consentire bloccare consentire ok? bene possiamo disattivarlo possiamo attivarlo possiamo eliminarlo e possiamo aggiungere addirittura un processo quindi clicca su aggiungi processo cercare il programma in esecuzione per dire office click to run mi sta sulle balle perfetto aggiungi elemento selezionato adesso lui è bloccato ok? non lo voglio più bloccare elimina fine regola in ingresso regola di uscita e qui invece possiamo aggiungere il programma manualmente cercandolo dentro dentro il c quindi andiamo dentro programmi andiamo dove vogliamo ok? malware byte ho solo la cartella perché non ho più malware byte ho fresh download benissimo lo prendo lo apro me lo cerco apri aggiunto adesso fresh download non si connette più internet non lo voglio più via basta semplicissimo possiamo addirittura attivare la lista bianca premendo in basso a destra quindi trasformare la lista nera che è presente e attivare la lista bianca possiamo modificare varie impostazioni tra cui la lingua che non so come mai sia possibile esiste l'italiano ok? perché noi italiani non contiamo mai niente c'è anche in italiano possiamo attivare disattivare riavviare resettare tutto anche resettare tutte le impostazioni di windows firewall se sbagliamo e abbiamo problemi un bel reset riavviare il servizio ammetti che il servizio è bloccato o c'è qualcosa riavvia il servizio blocca internet perché ho un virus perché ho l'esigenza blocca internet disattiva il firewall abbiamo tutto alla portata di un click se volete vi potete fare un bel collegamento del fab ok? e ve lo piazzate dove volete sulla barra dentro start eccetera e voi ce l'avete questo lo incollate dentro documenti dentro qualsiasi posto per non averlo sul desktop e avete finito e una volta che avete cancellato le regole comunque rimangono cioè penso che un programma così figo e semplice non l'ho mai presentato a nessuno quindi spero di avere un miliardo e mezzo di super pollici alzati e di nuovi iscritti se è stato utile iscrivetevi al canale fate i bravi e alla prossima puntata bye bye ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti